Ciao, buongiorno a tutti da Lanto, quest'oggi è un nuovo vlog in cui mostro le immagini che mi avete inviato circa le vostre creazioni realizzate con il supporto dei miei video. In questo filmato ho raccolto le foto che mi ha inviato Donatella da Brescia, Donatella mi ha inviato le immagini inerenti una bellissima parour realizzata con il tutorial numero 11 e questo è il particolare del bracciale, del solo bracciale. Inoltre Donatella mi ha spedito anche le immagini inerenti ai lavori natalizi che ho apprezzato tantissimo. Questa è la mia stella, dopodiché troviamo il mio alberello e graditissimo il mio pungitopo per il quale, devo dire, ha creato un bellissimo lavoro addobbando una coroncina che è questa che vedete nelle immagini. Grazie mille Donatella, la mia seconda amica è Mariella da Caserta, con la quale fra l'altro abbiamo fatto due chiacchiere, è stata anche per un periodo qui in Genova. Ciao Mariella mi ha mandato la foto dei suoi orecchini celtici, bicolor, bellissimi, la foto di un anello, ecco dovremo realizzare un anello insieme, mi hai dato una grande idea Mariella, è un qualcosa che non facciamo già da tempo. E la foto di un altro paio di orecchini realizzato sempre appunto con i miei tutorial. Ciao Mariella, a presto. Altra amica Nicoletta da Reggio Emilia che mi ha inviato una foto riepilogativa di quelli che sono i bracciali creati con i miei tutorial. Grazie mille Mariella, sono davvero tutti bellissimi. Io ringrazio queste tre amiche e devo dire che probabilmente ho smarrito qualche mail, pertanto se nei prossimi filmati inerenti appunto le vostre creazioni non vedete i vostri lavori, riscrivetemi senza problemi, sollecitatemi o provvederò quanto prima ad inserirvi in un nuovo video. Vi ringrazio, ciao a tutti da Lanto, un bacione.